Sto cercando Miss Inferno Sei tu? Vediamo Sei una donna che arrossisce i maschi? Una che se lui ti chiede la mano tu gli dai il dito? E' ferma, animale duca Una che come asso nella manica ha il due di picche? Sei una che attrae e respinge e riattrae Staccami, staccami Allora, attaccami Una che dice sempre no anche per dire sì Annuisci Ebbene, se sei una Miss Inferno uno dei nuovi personaggi di Ceres potrebbe essere ispirato a tu Partecipa al concorso Heroes for Ceres Potrai vantarti per tutta la vita e vincere una notte da eroe Candidati, ispiraci Ben JT Pag.com 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 Pag.com